Sardegna 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 Chiamata Senna Si Mi Alla Sardegna Sardegna Mi 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 i miei pastori, il generale disse di sparare e farli fuori ma a Torino c'è, Antonio Caci da Ares e Cristione Sordao scommetti franiss e franiss e pari, c'un altro sarbo spiega da sta situazione faccia la sagazzana, lo sciopero dei signori dalla stessa stazione dove erano arrivati, riparte la brigata e sardi ammutinati, hanno un ordine fame perché ora hanno coscienza la grande differenza tra ignoranza e conoscenza scadano i musoghioli, chissà che era, sa mamma e raggetti ma c'ha messo in terra, moriti, sonnose, puloncetti, innocenti sa che hai da andare a fare, un giorno in pagato comprendi cade il muro di Berlino, cambia la storia finisce la guerra fredda e l'allembo obbligatoria puoi non fare militare, se non ti piace oppure puoi partire per missioni di pace in Afghanistan ci stanno i taliban e allora c'è bisogno dei reparti italiani ma non capisci perché non c'è la stessa premura per la feroce dittatura che c'è ora e non dura edizione di pace con i combattieri mitra cari armati, reparti speciali c'è bisogno di migliaia di morti, cinesi, famiglie, donne, vecchi, bambini e si guarda questa faccia di quando si prende un governo che sia statico dell'occidente se la sciocchi fa la guerra e la guerra è una rapina se ti l'ho a assumenti può salvare la guerra e la guerra è una rapina ma non capisci perché non ti ha capito questa vita è la scienza ma non capisci per me se ti l'ha assumenti può salvare la guerra è una rapina Grazie a tutti.